cloud. Ok, lo sta facendo, perfetto. Allora, stavo dicendo benvenuti a tutti alla seconda giornata del convegno ventiseiesimo, se non ricordo male, sì, della Società di Filosofia del Linguaggio dal titolo Narrazioni, Confabulazioni e Cospirazioni. Prima di cominciare, ricordo a tutti, ma è stato già detto ieri abbondantemente dalla nostra presidente Francesca Piazza che purtroppo John Gibson per un problema personale non potrà oggi unirsi a noi, quindi diciamo il suo toc è stato cancellato e quindi questo ha fatto sì che l'assemblea dei soci della società venga anticipata alle cinque e mezza. Ora sono molto lieto di introdurre il professor Dario Mangano, professore associato di semiotica dell'Università di Palermo. Credo che Dario non meriti e non abbia bisogno di alcuna presentazione, ma voglio ricordare che è coordinatore del laboratorio di comunicazione presso il Dipartimento di Cultura e Società dell'Università di Palermo e ha scritto numerose ovviamente pubblicazioni sia nazionali che internazionali. Voglio ricordare solo le ultime due nel 2019 per Mimesis, Ikea e altre semiosfere e un'altra pubblicazione a cui per miei interessi personali sono particolarmente legato, che cos'è la semiotica della fotografia pubblicata per Carocci nel 2018. Oggi ci parla di un tema quanto mai attuale, il valore al tempo del Covid. Grazie molte Dario, la parola è a te. Grazie mille Alberto, grazie a tutti, grazie a Francesca, al direttivo appunto ad Alberto, a tutta l'Università di Torino, a Ugo, a Massimo, insomma siamo ognuno a casa ma è come se fossimo tutti quanti a Torino. Allora, cominciamo subito, io a un certo momento cercherò di condividere delle slide ma non lo faccio subito, giusto per non lasciarvi questa immagine così davanti agli occhi. Allora, fra i contributi che la linguistica ha offerto al pensiero filosofico uno dei più rilevanti è ovviamente legato alla nozione di valore. Quando Sussurre nel corso di linguistica generale suggerisce di pensare la lingua non come un insieme di cose ma come un sistema di differenze è ovviamente proprio questo concetto a diventare centrale. Da qui nasce una visione del linguaggio che mette da parte ogni tipo di ontologia ma anche due importanti gesti teorici. Il primo consiste nel mantenere uno sguardo aperto di fronte ai processi di significazione che consenta di giungere alle unità che lo caratterizzano dopo aver percepito l'insieme cui tali unità devono la propria definizione. Il secondo nella centralità che assume l'analisi. È dalla totalità solidale che occorre partire per ottenere, mercè, l'analisi, scrive Sussurre, gli elementi che contiene. La comprensione del fenomeno linguistico si realizza quindi a un livello non immediatamente percepibile, quello in cui un tutto organico si dissolve nelle parti che lo compongono. Tuttavia a tale dimensione non si può pervenire se non in funzione proprio di quella organicità che il gesto analitico fa perdere ma di cui conserva in qualche modo la memoria. È proprio a questo aspetto quasi paradossale che rimanda il concetto di sistema. Se il valore è il prodotto di una differenza e non una qualità intrinseca, con la sua stessa determinazione è il sistema di relazioni a divenire finalmente visibile. Tutti i valori, spiega Sussurre, sono retti da un principio paradossale, lui lo definisce, in quanto sono costituiti da un duplice rapporto. Ve lo ricorderete uno con una cosa dissimile e l'altro con una simile. Se voglio determinare il valore di una moneta da cinque franchi, l'esempio come sapete bene è suo, devo sapere che posso scambiarlo con una certa quantità di pane ma anche che posso confrontarlo con un valore simile dello stesso sistema come una moneta da un franco. Ogni parola è rivestita non soltanto di una significazione, parole di Sussurre, ma anche e soprattutto di un valore. Per esempio il valore che assume il plurale in una lingua come il francese, che presenta come l'italiano solo due posizioni logiche quali appunto singolari e il plurale, non potrà essere lo stesso che assume in una lingua come il sanscrito, che prevede anche il duale, non solo il sanscrito, ovviamente il greco antico, il lituano, l'arabo, eccetera eccetera. Quindi per parlare delle orecchie e delle braccia, in quest'ultimo caso il parlante sanscrito oppure arabo contemporaneo non si farà riferimento al plurale ma appunto al duale, cioè le mani e le braccia non sono né singolare né plurale, qualcosa che per noi è inconcepibile ma che per un parlante arabo è perfettamente sensato. È proprio con la dimensione sistematica del concetto di valore che mi vorrei confrontare oggi, avendo come orizzonte però non un oggetto linguistico in senso stretto, quale può essere una frase o un discorso, ma un oggetto semiotico complesso che ha la natura di un fatto sociale. È sempre Sussurre autorizzare una prospettiva del genere. Cito nuovamente Sussurre, soltanto il fatto sociale può creare un sistema linguistico. Si tratta quindi di andare oltre l'unità linguistica e attuare uno spostamento che non è soltanto empirico ma è anche teorico ovviamente. L'ipotesi di lavoro è ben definita. Il fatto sociale è un fatto semiotico nella misura in cui presuppone dei fenomeni di significazione che lo innervano e lo sorreggono. Era in fondo quanto sosteneva Lyotard, vi ricordate, nella condizione postmoderna, libro famosissimo e molto molto letto, ma forse non ripreso troppo di recente, o almeno non nella versione originale, Lyotard facendo riferimento a una teoria diversa da quella dell'attuale semiotica, o almeno dalla semiotica così come la intenderò io, lavorava invece ovviamente sulla pragmatica, come voi sapete bene, e sulla teoria di giochi di Wittgenstein. L'idea era di differenziare il sapere scientifico da quello narrativo, mostrando poi come l'uno non potesse esistere senza l'altro. Ci torneremo. Quello che ci interessa in questo momento è la dimensione narrativa che il filosofo, che è Lyotard, individua e rispetto alla quale la semiotica ha una concezione teorica, epistemologica, ma anche metodologica ed empirica piuttosto precisa. Sto parlando evidentemente del concetto di narratività, inteso non semplicemente come una teoria della narrazione, ma come un'ipotesi esplicativa dei meccanismi di produzione di senso, tucur. L'idea è quella che la struttura della narrazione si mantenga costante non soltanto in fenomeni propriamente narrativi, ma anche in altri che non hanno la natura empirica di una storia, di un racconto. Penso, fra gli altri, ovviamente allo spazio, dimensione sulla quale la semiotica ha lavorato, come sapete, molto. Quindi, posto che attraverso il paradigma della narratività è possibile pensare una matrice narrativa per articolare l'esperienza. La centralità che la nozione di valore assume all'interno delle narrazioni diventa uno snodo essenziale per comprendere il concetto stesso di identità. Quindi, da un lato, il problema del valore in so sur, come lo conosciamo bene, dall'altro lato, la centralità del concetto di valore all'interno di una teoria della narratività, che ovviamente affonda le sue radici nelle narrazioni, ma che poi estende tutto questo a qualunque fenomeno di significazione. La narratologia ha mostrato bene come i racconti si basino sulla circolazione dei valori che vengono iscritti in oggetti di varia natura. Se si istituisce la relazione polemica che dà vita al conflitto, che sta alla base dell'avvio del meccanismo narrativo, quello che Propp, lo sapete, chiamava danneggiamento, è perché soggetto e antisoggetto desiderano il medesimo oggetto. Una comunanza di desiderio che tuttavia si realizza, lo sappiamo, per ragioni diverse, tanto diverse quanto lo sono le due società di riferimento dell'eroe e dell'antieroe. Parole, ovviamente, di Greymas. Se il drago e il cavaliere desiderano la medesima principessa, è perché quest'ultima può essere considerata dal primo un appetitoso pasto e dal secondo una preziosa ricompensa. È la narrazione a porre questi valori, articolandoli durante il suo stesso svolgimento. Così, quando il cavaliere si innamora della fanciulla e cambia la ragione del suo desiderio dall'interesse economico al sentimento, il racconto prosegue senza problemi. La fanciulla è sempre lei, è cambiato però il motivo per cui cerchiamo di, come dire, sottrarla alle grinfie del cattivo. Il rapporto tra valorizzazione e narrazione è talmente profondo da far sorgere il dubbio circa quale dei due processi sia funzionale all'altro. È la valorizzazione a essere necessaria al fine di mettere in moto la macchina narrativa o è la narrazione, in fondo, a rendere possibile la circolazione dei valori in una comunità sociale? Circolazione da un lato, ma ovviamente anche differenziazione dall'altro, differenziazione da altre comunità sociali e quindi anche valorizzazione del gruppo nel suo complesso. Il principio della valorizzazione e di conseguenza lo stretto legame fra articolazione del senso e narrazione è risultato cruciale nel sistema sociotecnico che caratterizza la nostra società, la società dei consumi. Al suo interno, lo sappiamo molto bene, la produzione di merci ha assunto una dimensione tale da generare fenomeni di concorrenza paradossali. Prodotti simili, se non addirittura analoghi, competono continuamente per conquistare i favori del pubblico mettendo in atto ogni possibile strategia per differenziarsi. È qui che entra in scena la comunicazione, lo sappiamo, in particolare quel genere testuale, ma anche discorsivo, ormai sempre più discorsivo, che si è specializzato nella funzione di valorizzare i prodotti. Sto parlando evidentemente della pubblicità. Attenzione, è chiaro che se la pubblicità dimostra una certa efficacia sulla quale peraltro nessuno è mai stato in grado di determinare con precisione quale sia questa efficacia, comunque se la pubblicità dimostra una certa efficacia non è per una qualche forma di persuasione occulta, lo sappiamo, ma per la capacità che ha di configurare l'atto del consumo. La pubblicità, vai a farglielo capire agli studenti, non inganna nessuno e non ha mai potuto ingannare nessuno. È pubblicità, tutti sanno che è un discorso di parte, quello che fa è dare senso ai prodotti. E questa è la cosa difficile da fare capire agli studenti. La marca non serve solo a uscire dalla genericità di un prodotto non marcato, lo sappiamo, concetto quello del non marcato e del marcato ovviamente di provenienza linguistica, serve anche a definire un prodotto rispetto all'altro ovviamente, quindi una marca rispetto all'altra, la Coca-Cola rispetto alla Pepsi, la Mercedes rispetto alla BMW, la Nike rispetto all'Adidas, eccetera. Insomma, non c'è solo un'opposizione privativa, marca versus non marca, ma anche una qualitativa del tipo marca A versus marca B. Se quello che fa la pubblicità è raccontarci storie che riguardano il prodotto di turno, presentandolo come un eroe di qualche tipo, non bisogna cadere nell'errore di pensare lo storytelling come un mezzo rispetto al fine che è quello di valorizzare il prodotto. Le storielle più o meno stupide che ci raccontano spot e affissioni non sono un modo carino e accattivante di presentare un prodotto, sono un sistema sofisticato grazie al quale una società pone in essere e articola il sistema valoriale che ne è al fondamento. sono andato a ripescare un vecchio numero di carte semiotiche, il bello di essere a casa è che vi posso fare vedere i libri, un vecchio numero di carte semiotiche del 91, tutto incentrato sulla nozione di valore, c'era un saggio di Bruno Bassi in cui lui distingueva tra valutazione, che era appunto la collocazione dell'oggetto di valore all'interno di un universo assiologico e valorizzazione, intesa come pratica individuale, tra virgolette, di investimento di valore. Bene, è il senso quindi ad avere una forma narrativa, l'unico modo che si ha per metterlo in condizione di significare, per utilizzare il famoso slogan greimasiano, è seguire il ragionamento logico che il raccontare al contempo pone e, mercell'analisi, direbbe Saussure, rende percepibile. Quindi basta guardare un corpus pubblicitario scelto in modo sufficientemente ampio per rendersi conto di quanto esso sia in grado di esprimere con completezza e profondità il sistema di valori che caratterizza una data società. Non sto qui ad annoiarvi troppo, anche perché il tempo è tiranno, come si usa dire, vi faccio vedere soltanto, e qui scatta la slide, vediamo se riesco a far tutto senza fare pasticci. Eccoci. Mi sentite? Perfetto, ok. Allora, io vi vorrei vedere pure un pochino, scusatemi, riarrangio le finestre, come ormai siamo abituati a fare in questi casi. Allora, vi dicevo, non vi annoierò con lunghissime analisi, qualche anno fa ho fatto proprio per il libro che ricordava Alberto prima, una ricerca sull'immaginario gastronomico attraverso la pubblicità, sono venute fuori delle cose piuttosto divertenti, una delle quali soltanto vi faccio vedere adesso, ed è questa qui, guardate questo non è un fake, visto che ce ne stiamo occupando, è realmente una pubblicità che è andata nella stampa, sulla stampa di allora, magari non riuscite a leggerlo, lo faccio io per voi, e fa che la mamma mi dia anche oggi il formaggino mio, 1952. Ovviamente la preghiera per il formaggino ci fa sorridere, però a pensarci bene pone un problema non di poco conto. Nel 1952 la religione veniva usata in un modo così spregiudicato che oggi farebbe arrossire chiunque evidente, l'idea, lo capite, è che la società laica nella quale siamo convinti di vivere, temo che non sia poi così laica. Oggi un annuncio del genere farebbe saltare tutti quanti... Dario, scusa, non riusciamo a vedere la... Dario, non riusciamo a vedere la... Scusate, ogni tanto mi arrivano dei messaggi strani, dice your screen sharing is paused, quindi mi inquieto, però voi mi vedete e quindi questo mi... Dario, non vediamo le slide. Vedete le slide, non vedete me. Vediamo te, vediamo la prima slide, ma non la pubblicità che diciamo. Io però sto andando. Alberto, io in tutto questo non ti sento. Dario, vediamo la slide, solo la prima slide, non vediamo le altre slide, non vediamo il formaggino. Questione, scusatemi un attimo perché appunto vi vorrei sentire. Ok, adesso meglio. Perfetto. Però io continuo a non sentirvi e questo non capisco perché. Provo poi a fermare lo sharing delle slide, adesso fatemi capire se vi posso sentire, Alberto, fammi capire se mi sono giocato l'audio per tutta la vita. Ora ti sentiamo, ma ti sentivamo anche prima. Non riuscivamo a vedere la slide, ma a un certo punto ci sei riuscito. Non riuscivate a vedere la slide? Alla fine l'abbiamo vista, ma per un lungo periodo non si... Ah, bene, io non vi sentivo, quindi non capivo che voi non la vedevate. Allora vi siete persi la pubblicità del formaggino mio? No, ma alla fine ci stai riuscito. Ok, ok. Adesso mi senti e vedi, spero. Fantastico, grazie. Scusate, classici problemi della diretta. Allora, quindi è interessante perché ovviamente negli anni 50 si riusciva a ironizzare sulla religione molto più di quanto non si faccia oggi a dispetto della presunta apertura mentale del tempo che viviamo. Al di là dei passi di gambero sui quali si potrebbe discutere, se questa affissione ci sembra strana è perché la pubblicità di recente non ha funzionato così. La semiotica lo ha mostrato piuttosto bene, la pubblicità contemporanea ha finito per emanciparsi da metavalori come la religione, finendo per darsi come un sistema che si autosostiene. Lo sapete, Gianfranco Marrone ha scritto un libro intero sul discorso di marca nel quale sostiene appunto che in qualche modo il discorso di marca e i brand abbiano tratto vantaggio dalla crisi delle grandi narrazioni, cita esplicitamente Leotardo ovviamente, e quindi che a seguito appunto della crisi delle grandi narrazioni e delle ideologie, fra cui ovviamente manca a dirlo il cristianesimo, le grandi marche abbiano, come dire, preso il posto di queste ideologie svolgendo, prendendo in carico il loro ruolo. Quindi quella pubblicità che ci fa sorridere così tanto è possibile perché in quegli anni probabilmente la grande narrazione del cristianesimo reggeva ancora, cosa che oggi forse non è esattamente, che non possiamo dire esattamente, e questo la pubblicità lo ha capito benissimo. Benissimo, arriviamo finalmente a noi. Quindi questa è la premessa, questione dei valori, sossurre, questione dei valori, narrazione, questione dei grandi, delle grandi narrazioni che appunto in qualche modo entrano all'interno del discorso pubblicitario, è pubblicità che si è affrancata da queste grandi narrazioni guadagnando un'autonomia e ponendosi appunto come destinante, per dirla in termini semiotici. Questa ci mette ansia solo a guardarla. Ormai siamo diventati piuttosto sensibili ai colori e ricordiamo tutti molto bene cosa è successo il 9 marzo. È stato il giorno in cui l'Italia è entrata in lockdown. Dalla sera alla mattina si è fermato tutto. Lo sappiamo, le automobili hanno smesso di circolare, le attività hanno chiuso, perfino una passeggiata è diventata impossibile. Cani ovviamente a parte. Nelle città si è imposto un silenzio irreale. Nessuno poteva più lavorare, nessuno tranne ovviamente medici e paramedici, nonché coloro che operavano nella distribuzione alimentare. Niente aveva più importanza se non proteggersi, non ammalarsi, rimanere in vita, fino a quando gli scienziati tornati per l'occasione a contare qualcosa non avrebbero trovato un rimedio. In un attimo non c'era trasmissione televisiva che non ospitasse un numero imprecisato di virologi, possibilmente in disaccordo fra loro. Ogni disastro si sa è un'opportunità per chi deve raccontarlo e quindi l'altra categoria che di colpo si è trovata a lavorare moltissimo è stata proprio quella dei giornalisti cui la pandemia aveva tolto il problema del newsmaking e tolto il problema degli ascolti. Però a pensarci bene c'è stata un'altra categoria di professionisti che ha di colpo ricevuto tante commesse, meno visibili dei giornalisti, più fortunati di tanti operatori dello spettacolo, sto parlando dei pubblicitari. Ora, ci avrete fatto caso anche voi, ne sono sicuro, nel giro di pochi giorni, intorno a marzo e aprile del 2020, i break pubblicitari sono cambiati. Pasta, biscotti, automobili, assicurazioni, perfino la carta igienica non è stata più quella che avevamo imparato a conoscere. E quindi l'idea è quella proprio di analizzare questi spot, analizzare gli spot di quel periodo, in realtà il corpus che ho preso in considerazione è un po' più esteso, ma io vi parlerò proprio di quei mesi lì soprattutto, tranne alla fine. vi dicevo appunto, sono spot tradizionali. Ho preso in considerazione appunto i classici 30, 45 e il minuto, in qualche caso, quindi spot andati in onda in televisione, per capirci. Non ho analizzato la comunicazione digitale, cheppure, lo sappiamo tutti, ha preso grandissimo piede in quel periodo, perché a me interessavano, come dire, i mezzi di comunicazione di massa. So che questa espressione è un po' vintage, però continua a reggere in realtà molto bene. Non vi posso fare vedere ovviamente tutti gli spot che ho analizzato, perché se no la mia relazione sarebbe finita qui, potremmo fare del cinema molto divertente, e quindi ho pensato di mettervi delle immagini che spero, insomma, si spieghino da sole, ecco, semplicemente con riferimento delle campagne a cui facevano appunto, di cui erano appunto gli spot. Ora, l'impatto principale di questi spot, atteso che il tema, lo abbiamo capito, è il Covid, è dato dalla potenza figurativa. Sono due le cose che si impongono con forza. I paesaggi urbani e quelli domestici. Qualunque sia il prodotto di cui parlare, il modo migliore per farlo sembra essere mostrare città vuote e per contrasto case troppo piene. Da un lato ci sono piazze e strade, le ampie vie dello shopping accanto ai piccoli vicoli di provincia, ma anche parchi, portici, vetrine e perfino i portili condominali. Dall'altro cucine, camere da letto e ovviamente gli immancabili balconi. Tutto è troppo vuoto o troppo pieno. In ogni caso, differente da come siamo abituati a vederlo. Il tema, appunto, lo dicevamo, è la pandemia. È di questo che parlano le pubblicità, indipendentemente, scusate, insisto, dal prodotto che promuovono. Ed esibiscono tutta una serie di figure che il discorso giornalistico, in linea di principio, peraltro ben diverso da quello pubblicitario, in quel momento mostrava incessantemente. Ci sono molti casi in cui le stesse riprese amatoriali vengono prelevate da YouTube prima dai TG e poi dai pubblicitari. Gente che suona la chitarra in balcone, maestre che parlano a un computer in cucina, persone che fanno ginnastica in camera da letto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma procediamo con ordine. L'idea di Gremas, lo sapete, è quella appunto di procedere per livelli, da quelli più di superficie, in cui abbiamo trovato appunto i temi e le figure di cui abbiamo parlato, per procedere verso spazi, tempi e attori. Ed è esattamente di questo che vorrei proprio seguire il percorso indicato da Gremas. In relazione agli spazi, dicevo, troviamo due fondamentali dimensioni, città e casa. Non sono le uniche, però. A seconda del prodotto, parmigiano reggiano, pizza surgelata, supermercati, solo per fare qualche esempio, possono comparirne altre, come il magazzino per la stagionatura del formaggio, il tavolo di un ristorante, oppure la cassa di un supermercato. C'è solo una ripetizione che sembra degna di nota, a mio avviso, e riguarda i paesaggi naturali. Si va dai verdi pascoli agli oceani, dalle montagne piemontesi, che non ho riportato, ma giuro ci sono, alla familiare immagine della terra vista dallo spazio. Il senso di tutto ciò, piuttosto evidente, è mostrare la bellezza della natura, ma anche la sua potenza. In un momento in cui tutti si sentono molto piccoli di fronte a un microorganismo che mette in ginocchio il mondo intero, la natura è ovviamente il convitato di pietra di ogni possibile discorso. Ma torniamo alla dimensione urbana. Se da un lato si cerca lo scorcio, lo scorcio noto, ben riconoscibile, dall'altro molto spesso viene inquadrato un piccolo borgo che può essere identificato da pochi. L'idea sembra di essere quella di veicolare più che l'Italia. Attenzione, c'è un microfono aperto. Marco, penso sia il tuo. Veicolare, dicevo, più che l'Italia, l'italianità, e dunque quella alternanza caratteristica fra sontuosi monumenti e piccoli paesini. Quanto al contesto domestico, l'ambiente preferito, lo sappiamo, è la cucina. Non soltanto perché gli italiani, quando sono stati chiusi in casa, hanno cominciato a cucinare, lo sappiamo tutti, ma perché è l'ambiente in cui succedono moltissime cose nella quotidianità pandemica. Si parla in videoconferenza, si studia, si insegna, si festeggiano i compleanni, la cucina torna a essere davvero il focolare domestico. Due spazi, ovviamente vado molto rapidamente, questa analisi potrebbe essere molto più dettagliata, ma insomma vorrei arrivare alle conclusioni, spero proprio di riuscircelo a fare nei tempi. Due spazi, dicevo, meritano particolare menzione, i balconi e gli ospedali. I primi perché sono luoghi ibridi, confini fra quello che si può fare e quello che invece non si deve fare, fra la socialità del suonare e cantare insieme e il bisogno di fare la spesa, magari abbassando giù un paniere dal balcone. Gli ospedali ovviamente raccontano dell'altro contatto ineludibile, cioè quello con la malattia e quindi con la morte. La pubblicità, lo sapete, non ama molto parlare della morte, tranne in alcuni sottogeneri come il social advertising. Ci sono molte assenze, naturalmente, soprattutto quelle legate ai luoghi di condivisione, ristoranti affollati, uffici, banche, e vi faccio notare, ci torneremo, ci sono pochissime automobili nella pubblicità. Bene, quali sono i personaggi, quindi passiamo agli attori, di queste narrazioni? Non stupirà ovviamente che sono spesso i componenti della famiglia nucleare, mamma, papà, bimbo o bimbi. Quello che è meno evidente è la sparizione degli esperti. La pubblicità, lo sapete, ne fa sempre uso. Medici, dentisti, ginecologi, cardiologi, gastroenterologi, cuochi, pescatori di merluzzi, atleti, e chi più ne ha più ne metta, che dall'alto della loro autorità consigliano sempre il prodotto di turno. I pochi esperti superstiti vengono sempre accostati a un membro della famiglia. Se in un'inquadratura si vede un pizzaiolo, come nella seconda immagine, poco dopo è la mamma a tirare fuori dal forno di casa una fumante margherita, ovviamente surgelata. Personal trainer, in qualche caso per un breve istante si intravede nello schermo di un televisore o di un iPad, ma per il resto è l'adolescente di casa a venire inquadrata mentre fa gli esercizi. Coerentemente sono spariti anche i testimonial, ovviamente. Niente personaggi della spettacolo, niente atleti, niente rubiconde chef star, niente modelle, nessuno spazio per lo straordinario, insomma, in un momento in cui di straordinario ne avevamo piene le tasche. al punto che il ruolo tematico del testimonial finisce per essere assunto da quello che il periodo aveva imposto come l'unico possibile eroe, cioè il medico, ma attenzione, non il dentista, il reanimatore, ovviamente. Perché il problema è che cosa c'entra un signore vestito con una tuta bianca, una mascherina e una misiera di plexiglass con la carta igienica, le assicurazioni, gli arredi, le automobili e praticamente qualunque altro genere merceologico. Ovviamente niente. Semplicemente in quel momento l'eroe era lui e quindi era lui che bisognava mostrare ogni qual volta si risiderava evocare appunto il ruolo dell'eroe. Una sorta di antonomasia, eroe medico, costruita alla velocità della luce dai media, come sappiamo. Attenzione però, eroe non significa soggetto operatore, ruolo tematico e ruolo attenziale non sono la stessa cosa ed è perfettamente possibile che il protagonista della storia finisca per non essere il medico. D'altronde il compito da assolvere in moltissimi casi è paradossale, lo sappiamo, non fare assolutamente niente. La Germania, lo sapete, ci ha fatto una campagna, bisognava essere pigri come procioni, cito testualmente, per aiutare il paese. Poverini, i tedeschi, non riuscivano a stare a non fare niente e quindi bisognava insegnarglielo. Gli italiani avevano un altro genere di problemi, in realtà il loro problema non era non fare niente ma era divertirsi anche in quelle condizioni e come si sa tutto, diciamo, per diversirsi bisognava andare in cucina e mangiare. Il soggetto operatore nel nostro caso non è un personaggio, è uno a tante collettive. costruito da più attori e quindi per esempio proprio la famiglia. Un noi nel quale è facile che tutti si riconoscano. Quindi non il noi esclusivo della famiglia del mulino bianco, sapete, quella perfetta, talmente perfetta da risultare irreale, ma un noi inclusivo di una famiglia di volta in volta diversa, con i figli grandi o con i figli piccoli, senza figli, con i nipoti, con pochi nipoti, eccetera, eccetera. Parlo di nipoti perché l'altro ruolo tematico degno di nota nella pandemia è ovviamente l'anziano. Diventati di colpo categoria protetta, gli anziani entrano come mai prima in spot di ogni genere, andando ben oltre il ruolo del saggio che avevano avuto in pubblicità. Non si tratta quindi di far dire al vecchietto la cosa giusta, ma di raccontare la vecchiaia, cosa che prima non si era mai fatta, forse perché la possibilità di averne una cominciava a non essere così scontata. L'anziano, insomma, non è più solamente il passato, ma è anche il futuro, o almeno un futuro auspicabile, una trasformazione semantica irresistibile per tutti quei prodotti in cui la tradizione è un valore positivo, ovviamente, la cucina. E quindi trovate un sacco di anziani nei prodotti alimentari, ma anche, come vedete, perfettamente nella telefonia, sebbene stiano raccontando una ricetta con tutta evidenza. Infine, terza dimensione, quella della temporalità. Ovviamente negli spot del nostro corpus si parla sempre di presente. Niente passato, niente futuro, tutto dice di quel momento esatto. Una vera stranezza per la pubblicità che cerca sempre di raccontare momenti ripetibili. La colazione deve essere quella di ogni giorno, così come farsi la barba, guidare, vestirsi, abbassare la pasta. Ogni azione deve sembrare sempre generica, non eccessivamente situata in un tempo e in uno spazio. Perché se no, ovviamente, non è ripetibile. Dicevo, durante il primo lockdown la pubblicità incontra la storia, non soltanto perché le azioni che vengono mostrate caratterizzano quel momento preciso, ma perché spesso le immagini sono tratte dalla cronaca, anche quella, appunto, che sta su YouTube. L'effretto straniante è quello di una sorta di spot di cronaca. Eppure quell'adesso, quell'ora, quell'istantaneità di cui parlano gli spot non è del tutto istantanea. Se l'unico modo di definire il presente è pensarlo come il tempo in cui si parla, il riferimento è ovviamente a Benveniste, il presente di cui parla la pubblicità durante il lockdown è un presente sospeso, durativo, che lascia in attesa di un futuro che non si sa quando arriverà. Fra l'eterna attualità della pubblicità tradizionale l'ultima ora del giornalismo, i spot materializzano insomma una sorta di istante durativo paradossale come il tempo in cui stavamo vivendo. Bene, a questo punto abbiamo esplorato il livello discorsivo da bravi semiologi e ci occupiamo dell'enunciazione. La domanda a questo punto è che tipo di soggettività costruiscono gli spot del corpus? Pensiamo ovviamente a denunciatore e denunciatario in quanto simulacri testuali dell'istanza di produzione del discorso e dunque della marca che fa appunto da enunciatore e dell'istanza di ricezione e quindi il consumatore. Partiamo dal consumatore. È a noi che questi spot si riferiscono. State attenti non a un target specifico, lo sapete la pubblicità ha questo vizio, quello di costruirsi un target molto preciso, un consumatore modello per parafrasare eco che è interessato a una certa automobile, a un certo whisky eccetera eccetera nel nostro caso invece non c'è un target ma c'è un soggetto piuttosto generico, un figlio del nostro tempo che più che voler acquistare qualcosa vorrebbe tanto avere indietro la sua vita. Una vita in cui però i brand ci tengono a ricordare ci sono anche pasta, automobili, pizze, assicurazioni, questo è giusto nel caso in cui qualcuno lo dimenticasse. Quindi questa pubblicità dell'era covid è un paradosso perché non vuole venderci nulla o meglio non vuole venderci nulla che non desideriamo già cioè riavere la nostra vita però ci ricorda in continuazione che c'era quella vita lì cioè che quando finirà la pandemia potremo finalmente ritornare a consumare. Ovviamente esiste una pubblicità che ci vende quello che tutti già vogliamo ed è la pubblicità sociale. Anche nel caso della pubblicità sociale i valori rispetto per le donne salute dei bambini eccetera sono valori condivisi sono un prodotto che tutti vogliamo comprare ma per il quale la pubblicità deve convincerci che siamo proprio noi a dover spendere dei soldi e non altri nel nostro caso però stiamo attenti è vero che non siamo nella stessa logica della pubblicità tradizionale ma non siamo nemmeno nella logica della pubblicità sociale perché un prodotto sebbene nascosto dissimulato c'è sempre c'è sempre l'azienda che produce quel qualcosa l'effetto finisce per essere quello di un discorso promozionale che quasi si vergogna di esserlo troppo di parte per essere percepito come disinteressato e troppo basato su valori universali per essere semplice pubblicità ovviamente non scendo nei dettagli di genere della pubblicità sociale quello che vorrei evidenziare è che comunque questa pubblicità dell'era Covid o della prima era Covid del primo lockdown è un terreno nuovo per i creativi molto delicato ma evidentemente considerato di importanza cruciale perché appunto in ballo c'è il problema di non fare dimenticare alla gente quanto è bello consumare ovviamente altre caratteristiche espressive degli sport del nostro corpus abbiamo detto del mashup che di fatto realizzano sembrano il frutto mettono insieme generi completamente diversi e oggetti completamente diversi altri due aspetti enunciativi sono piuttosto interessanti anche qui vi faccio vedere un po' di immagini mi scuserete se non vi mostro gli spot abbondano le soggettive gli sguardi in macchina le prospettive situate le mani che sembrano spuntare dal corpo dello spettatore mentre scarseggiano tutte le soluzioni oggettivanti lo sappiamo la soggettiva è paradossale perché finisce per provocare un certo distacco nello spettatore compromettendo la catarsi e facendogli dunque riconoscere la natura artificiale della messa in scena che ha davanti vi ricordate Brecht niente di meglio di vedere qualcuno che non vede per rendersi conto di ciò che non vede appunto la questione è che in questo caso non c'è nessuno che può non vedere ciò che gli spot mostrano perché parla della nostra quotidianità delle città vuote eccetera eccetera cioè parla di quello che effettivamente stiamo vivendo allora perché questa insistenza l'altra peculiarità delle immagini di quel periodo è che spesso utilizzano la prospettiva dall'alto cioè abbiamo delle soggettive da un lato e delle immagini che provengono dai famosi droni ormai lo sappiamo sono assolutamente alla moda le immagini zenitali non stupiscono più nessuno anzi se vogliamo che il nostro video delle vacanze abbia un minimo di appeal non possiamo non metterci una ripresina fatta dal drone quindi è pieno di immagini riprese dal drone io ve ne ho fatte ve ne mostro soltanto tre ne ho decine ovviamente la cosa interessante è che appunto abbiamo questi opposti da un lato la soggettiva dall'altro lato una prospettiva dall'altro dall'alto scusate uno sguardo è incarnato l'altro è del tutto disincarnato assoluto a meno di non pensarlo ovviamente come lo sguardo di dio bene quindi uno troppo umano l'altro troppo divino e vengo al dunque ho anche ancora cinque minuti forse me ne prenderò un paio di più l'obiettivo della pubblicità è inscrivere valori negli oggetti di consumo lo sappiamo il principio di preisposizione ci fa pensare che ciò accada perché i prodotti non hanno un valore in realtà è vero esattamente il contrario il dentifricio un dentifricio o una bibita gassata sono prodotti culturali e quindi sono sempre parte di un immaginario che li precede nella società dei consumi il problema non è appunto che i prodotti non significano il problema è che i prodotti significano troppe cose un'automobile prima che la pubblicità ne parli non è un oggetto vuoto è troppe cose appunto è un mezzo di trasporto ma è anche un elemento identitario è uno spazio nel quale si vive per molte ore ma è anche uno strumento grazie al quale viviamo altri spazi è un oggetto che richiede la nostra cura e al quale quindi è facile affezionarsi ma è anche un pezzo di metallo senza sentimenti il lavoro del pubblicitario non è in fondo dire in positivo cos'è un'automobile ma dire che cosa non è un'automobile o meglio che cosa in quel determinato momento un'automobile non è l'idea che in molti si saranno fatti seguendo il modo in cui la pubblicità è cambiata è che il fatto sociale sia diventato una sorta di tema ineludibile è quello che abbiamo detto anche per la pubblicità tutto in quel momento parlava di covid è vero tutto in quel momento parlava di covid ma ben pensare quello che la pubblicità fa è qualcosa di diverso è parlare il covid avrebbe detto forse Paolo Fabri ovvero articolare la narrazione della pandemia in senso più ampio facendola percolare in ambiti del vivere sociale che di principio non avevano niente a che fare con l'emergenza sanitaria in questo senso parlare il covid articolare il covid discorsivamente nella pubblicità non si tratta tanto di raccontare storie che hanno a che fare con la pandemia ma appunto di pensare la pandemia come una metanarrazione il covid non è un tema come tanti altri offre la possibilità di una sistematizzazione dei valori a livello globale una possibilità unica quello che viene nemmeno nella condizione postmoderna infatti la selezione e gerarchizzazione dei valori sociali e quindi una griglia culturale condivisa con cui leggere l'intera esistenza bene il covid offre questa possibilità bene ovviamente il problema non è che la pandemia ci ha fatto aprire gli occhi magari anche così ma come dire il semiologo non è interessato a questo è interessato ai meccanismi di valorizzazione più che ai valori in sé quindi ciò che il discorso pubblicitario mostra nella sua apparente marginalità rispetto a quello giornalistico è ciò che definiremmo un colpo di stato dei brand essi non si pongono più come soggetti simulacrali prodotto dell'attività comunicativa ma come soggetti reali che sono parte di quella società civile che fino a quel momento avevano cercato a più non posso di manipolare inseguendo il profitto a questo punto mi vorrei concedere di farvi vedere 30 secondi uno spot e passare poi rapidamente alle conclusioni ditemi soltanto se riuscite a sentire l'audio non è fondamentale ma insomma è utile queste strade così vuote dovrebbero metterci tristezza eppure non ci sono mai sembrati così piene piene delle nostre speranze dei nostri sogni piene di coraggio di forza di orgoglio abbiamo sofferto e affrontato mille difficoltà ma ci siamo sempre rialzati più forti di prima perché siamo italiani il nostro viaggio ricomincia da qui tutti insieme pensateci qui la pubblicità fa una cosa che non fa mai cioè mettere da parte la marca e lasciare vedere l'azienda come avete visto ci sono tutti i marchi dell'fca cioè ci sono la fiat ma c'è anche la maserati non c'è la ferrari era uscita nel 2016 vi ricordate dal gruppo in termini semiotici possiamo pensare questa mossa come una sorta di embrayage se la marca attraverso il discorso pubblicitario si pone come enunciatore qui si cerca di ritornare all'emittente mettendo da parte ogni strategia di brand è come se si volesse dire i brand non esistono sono un'invenzione della pubblicità così come lo sono i prodotti che vendono quello che esiste che conta davvero è altro in questo modo però si sta dicendo anche che chi compra una Ghibli è uguale a chi compra una Panda cioè la realtà FCA non sono Maserati e Fiat FCA è un nome che pochi conoscono come d'altronde pochi sanno che a produrre la maggior parte dei detersivi nel mercato sono soltanto due o tre aziende è come se ci dicessero che Dixan Biopresto Perlana Vernell e General che sono per la cronaca tutti i detersivi Enkel non sono poi in concorrenza come sembra e quindi che non sono poi così diversi se non altro perché sono fatti dagli stessi chimici negli stessi stabilimenti e con le stesse materie prime so che ho finito il tempo Alberto due minuti e chiudo quello che FCA ci sta dicendo è che dietro esatto questo era Siri che mi diceva che ha finito il tempo quello che FCA ci sta dicendo è che dietro le cose ci sono i brand e dietro i brand ci sono le aziende basta pubblicità insomma è tempo di stringersi a corte come recita l'inno c'è un solo problema anche FCA è un brand cioè diventa un brand per essere precisi proprio a partire da questo enunciato pubblicitario almeno diventa un brand per il grande pubblico che ovviamente non segue i mercati finanziari chi segue i mercati finanziari FCA la conosce da tempo ci troviamo insomma e sto per chiudere davanti a un gioco perverso in cui viene disvelato il ruolo della pubblicità e quindi lo statuto discorsivo della marca in quanto soggetto enunciatore dando vita a una sorta di meta pubblicità che termina ponendo in essere un meta marchio e questa finalmente la realtà la realtà FCA ma la realtà per chi? con chi sta parlando FCA? sta parlando con gli italiani con i consumatori con la gente comune o sta parlando con qualcun altro questo venire fuori come soggetto che scopia è la storia che ci aiuta a capire questo spot andava in onda ad aprile il 5 luglio viene annunciato la nascita viene annunciata la nascita di Stellantis che come sapete mette insieme FCA e PSA cioè il gruppo fondato da Peugeot e Citroen quindi ecco quello che è successo in un momento di grande crisi sanitaria sociale ed economica il Covid ha offerto la possibilità di una grande narrazione a cui ricondurre i valori articolati dalla pubblicità un modo per superare le divisioni per uscire dal relativismo post-industriale dalla miseria del sistema degli oggetti di Baudrillard il tutto corredato da un vasto campionario di temi e figure pret-à-porter uno slancio che finisce però per riaffermare il ruolo sociale della marca una nuova marca che non parli più ai consumatori ma agli investitori ai mercati agli stati nazionali che con questo soggetto Stellantis avranno a che fare questa era la conclusione del discorso di marca vi ricordate la marca al posto di Dio era una battuta a effetto in cerca di scoop diceva lo stesso Marrone in realtà oggi alla luce di quello che è successo con il Covid si rivela perfettamente esatta la marca non si limita a proporre valori verso cui tendere identità a cui aspirare a comportarsi cioè da destinante manipolatore la sua non è una narrazione come le altre una delle tante storie che ci fanno essere ciò che siamo è un soggetto sociale a tutti gli effetti la marca non è appunto un oggetto gli oggetti possono fare da soggetti in questa nostra società mi sarebbe piaciuto concludere no sì in realtà questa ve la devo dire quindi la marca appunto come il prodotto Dario scusa si sta riducendo molto il tempo per la discussione hai ragione bene concludo davvero allora Liotarda appunto aveva intuito come alla base dei fenomeni culturali appunto potessero esserci dei giochi e come questi giochi avessero a che fare con il linguaggio quello che abbiamo cercato di fare è pensare che tali giochi è pensare questi giochi come attività che hanno a che fare con tanti linguaggi e soprattutto cercare le regole di questi di questi giochi nelle narrazioni che costruiscono grazie scusate se sono andato un po' lungo grazie grazie Dario apriamo la discussione abbiamo circa una decina di minuti poi casomai riprenderemo per una discussione collettiva dopo l'intervento di Francoise vedo vedevo una manina alzata che ora non vedo più la prima manina che vedo è Claudio Paolucci prego Claudio io intanto scondivido questa insopportabile slide così poi vedo la manina di Francoise e poi Tiziana migliore quindi cominciamo con Claudio io sarò velocissimo Dario innanzitutto ti ringrazio tu hai usato diciamo hai detto userò un modello gremasiano ma in fondo in un certo punto mi sembrava quindi ritorno su una cosa epistemologica che mi sta molto a cuore in fondo hai messo come posso dire in discussione almeno un punto sensibile secondo me della teoria della narratività che è l'idea di Manc in qualche modo cioè l'idea che in qualche modo una narrazione o una valorizzazione visto che tu le tenevi insieme in modo inscindibile come secondo me è giusto e corretto fare parte di agremasiana classica che parte da una mancanza in qualche modo da una specie di deficit di senso da un'assenza di senso io ci lavoravo molto per esempio in persona nel mio libro sull'enunciazione ma di fatto molto spesso di senso ce n'è troppo in qualche modo e quindi quello che fa l'enunciazione è aggiungere delle sottrazioni se vogliamo e putare questo enorme repertorio di senso e secondo me è anche un po' la specificità del tipo di analisi che fai tu mi piacerebbe che ritornassi su questo in qualche modo principio epistemologico che per noi è stato condiviso del stato centrale perché di fatto l'idea di Manc veniva dall'analisi di un corpus narrativo quindi ci sta che in qualche modo in una narrazione ci sia una specie di deficit rispetto a un mondo precedente di tipo narrativo ma pubblicità si inserisce in qualche modo in un campo sociale dove come dicevi tu una macchina ha mille altri significati ha mille altri sensi e quindi in qualche modo il discorso pubblicitario innanzitutto per posizionarsi deve potare questi mille altri sensi che circolano nella semiosfera o nell'enciclopedia a seconda che preferisci l'Otman o Econ Alberto cosa facciamo? rispondo vogliamo dimmi tu direi di rispondere direttamente abbiamo tre domande quindi dovremmo potercela fare sì sì benissimo allora grazie Claudio ovviamente sì sono appunto assolutamente d'accordo con te nel senso che o meglio più che sono d'accordo io è la pubblicità che è d'accordo con te nel senso che effettivamente questa idea appunto è del tutto evidente più che in questo corpus che vi ho fatto vedere molto rapidamente nel caso della pubblicità alimentare che il lavoro sia proprio quello appunto di potare come dici tu la cosa che è interessante è vedere appunto come si inserisca questa potatura all'interno di costruzioni ideologiche di sistemi di valore più o meno ampi e più o meno preesistenti che poi ovviamente vengono generati e rigenerati continuamente da questo discorso sociale quindi appunto era un po' questo il mio l'opportunità che mi dava appunto il covid era quello di vedere finalmente questi testi apparentemente così ingenui e stupidini come sono le pubblicità maneggiare direttamente grandi ideologie resuscitarle per poi ecco la conclusione che non sono arrivato a fare poi ovviamente tutto questo è finito cioè questa grande narrazione del covid ce la siamo già tolta dai piedi avete più visto qualche pubblicità che parla del covid dei medici delle cose spazi tempi attori eccetera eccetera ma non mi pare proprio che ci siano cioè è durata lo spazio di un po' di mesi dopodiché questa è sparita senza nessun senza nessun problema in realtà è diventata poi adesso viene presa in giro un po' questa cosa qua il complottismo tutte queste cose qua che era un po' la mia conclusione non sono arrivato a fare viene un po' presa in giro quindi poi alla fine che cosa è rimasto? il discorso di Mark ovviamente cioè è rimasto esattamente quel giochino della potatura come lo chiami tu che non è solo potatura però ecco visto che la buttiamo su questa metafora ma è anche innesto ecco ci metterei anche l'innesto oltre alla potatura ecco tu come sai bene le operazioni sono due esatto spero di avere risposto ecco insomma grazie 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 Claudio e Dario la parola a Francoise L'Avocato grazie Alberto grazie Dario mi è interessata molto vorrei sapere se non sarebbe interessante avere un progetto più largo comparativo cosa sia successo in Francia nello stesso momento per esempio o altrove io sono stata stupita da questa pubblicità che ha mostrato lei nazionalistica lirica siamo italiani siamo abbiamo avevamo automobili e ne avremmo ancora una cosa assolutamente folle non rimane nulla di questo nazionalismo lirico quale è lo quale scopo politico c'è qui e dunque una piccola la questione più qual è anche comparativa c'è un rapporto con il vecchio progetto di Barth nelle mitologie o il modello e tutto altro è quello che vuole comunque era veramente interessante grazie grazie mille grazie mille assolutamente sì il lavoro comparativo sarebbe importantissimo io l'ho solo accennato quando ho parlato del famoso spot in Germania del siate pigri come procioni ma assolutamente sarebbe molto utile importante io ovviamente non avevo assolutamente il tempo per farlo ma sarebbe il passo successivo grazie mille per il nazionalismo lirico io spero di poterla usare questa sua frase perché mi piace moltissimo e quindi da qualche parte la userò come Claudio sa bene ogni tanto ecco diceva questa cosa la posso usare ecco io spero di usarla quindi sì è divertente perché il nazionalismo lirico è sparito è praticamente completamente sparito cioè già nel secondo lockdown si vede come si è cambiato completamente se poi abbiamo proprio 30 secondi perché si tratta di uno spot vi faccio vedere che cosa ne è stato di tutto questo sì è sparito è completamente sparito le marche sono tornate a fare le marche dopodiché sulle mitologie ovviamente sì quando dico che appunto pone un'ideologia e se ne vergogna ovviamente il riferimento era Barth non l'ho esplicitato ma sono lieto che lei lo abbia colto perché ovviamente il grande interlocutore è questo la cosa che mi sembra interessante è che si possa rifare cioè per un lungo periodo le mitologie non si sono potute rifare perché non c'erano non c'erano le ideologie e invece per la finestra molto breve si è potuto rifare un po' di mitologie adesso non si può far più però questo non so quanto sia una buona cosa grazie comunque bene abbiamo tempo per un'ultima domanda Tiziana Migliore eh sì grazie Dario interessantissimo tra l'altro io avevo eh ho letto ho citato anche la tua bella analisi su come sono cambiati i loghi all'epoca del covid e lì appunto mi ricordavo mi era rimasta molto impressa questo focus questa focalizzazione che avevi fatto sul valore non tanto del nazionalismo lirico ma della patria cioè se c'è un valore che emerge trasversalmente a livello figurativo e plastico in tutti questi spot è che tra l'altro mi sembra interessante perché prima del covid era ridotto uno stereotipo no? mentre la pubblicità ha risvegliato conforme anche delle retoriche estremamente efficaci questo valore che ovviamente ha dietro le scelte politiche che l'Italia fa perché sono riconosciute anche da altri paesi cioè quando tu dici che il gruppo internazionale che include più aziende in qualche modo sponsorizza e quindi e riconosce quel tipo di spot sta riconoscendo allo stesso tempo il ruolo politico che l'Italia in quanto patria ha giocato a me questo cioè che poi adesso sia sparito o no non lo so è appunto da considerare però mi sembra mi sembra interessante perché in qualche modo punta sul fatto che alcuni stereotipi possono tornare a diventare forme significanti ed essere risemantizzate anche grazie sì assolutamente grazie Tiziana assolutamente sì la cosa che mi interessa e quindi vado direttamente alla fine del tuo discorso è appunto questa non solo appunto questa risemantizzazione ma il modo in cui questi temi fortissimi la patria eccetera eccetera vengono fatti propri dal discorso di marca che se lì come dire non so da un lato li rilancia in maniera fortissima evidentemente dall'altra però evidentemente li li pota come diceva Claudio ma li innesta anche in altri discorsi l'esempio di FCA secondo me è interessante cioè FCA che non esisteva per il grande pubblico si mette si mostra in un quel momento lì associandosi al nazionalismo e alla patria che andava il nazionalismo lirico ma attenzione non hai in mente il consumatore finale in mente un enunciatario che sono gli stati nazionali perché ovviamente quando si fondono FCA e PSA come si chiama cioè quando si fa Stellantis lì ovviamente l'interlocutore sono le nazioni evidentemente tutto questo al di là dei fenomeni culturali che ci interessano ovviamente dal nostro punto di vista semiotico ci dimostra come attraverso l'analisi un testo apparentemente ingenuotto qual è appunto una pubblicità racconta del momento sociale forse più che fiumi di discorsi e di inchiostro sul problema commerciale sul rapporto fra paesi eccetera eccetera quindi poi alla fine viene fuori appunto un piccolo oggetto di senso che poi però appunto a partire dal quale possiamo ricostruire una rete di un sistema di relazioni molto molto grande sì con una dimensione etica molto forte che convince grazie assolutamente grazie grazie ancora Dario direi che ora il tempo è trascorso per passare alla seconda relazione di questa mattina la nostra seconda relatrice è Françoise Lavocat professore di letteratura generale e comparata all'università Sorbonne Nouvelle che credo corrisponda a Paris 3 Françoise è presidente di molte importanti società internazionali prima di tutto la Société Française de la Literature Comparée ed è la fondatrice e lo dico con molto piacere visto che anch'io faccio parte di quella società dell'International Society for Fiction and Fictionality è autrice di molte importanti pubblicazioni internazionali tra cui ricorderei il suo libro del 2016 Fé e Ficción perché è appena stato tradotto in italiano nel 2020 dall'editore italiano del Vecchio oggi Françoise ci parla del seguente tema e la narrazione cospiratoria Françoise la parola a te grazie mille Alberto grazie mille per questa gentile presentazione grazie per l'invito dunque la relazione tra confabulazione narrazione cospirazione può essere intesa in diversi modi al secondo che la si guardi da un punto di vista medico da un punto di vista narratologico che sarà il mio dal punto di vista di un lettore o spettatore o di uno storico culturale queste discipline attività e artefatti culturali sono carichi di tensione e di debattito ora condivido il mio PowerPoint aspetta un attimo spero di farcela deve aprirsi apriti 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 perché si ok per capirsi seguiremo le seguenti definizione della narrazione della narratività precede a Gerard Gened Marilor Ryan e Françoise Ravas la narrazione sicuramente per me è una rappresentazione di azioni alcune intenzionali e la narratività viene definita da un certo numero di proprietà testuali come una sequenza cronologica e posale una trasformazione da uno stato iniziale a uno finale e uno sviluppo insolito dell'azione ci tornerò dopo alcuni ma non la maggior parte dei narratologi vedono la narrazione come intrissecamente falace come capace di indurre travisamenti e falsi ricordi del passato sia a livello individuale che collettivo l'uomo non sarebbe solo un fabulatore come l'hanno scritto Molino Houston e tanta gente ma un confabulatore dedicato all'illusione propongo di contraddire queste perspettive disforiche sulla narratività e l'umanità cominciando per presentare la ricerca sulla confabulazione del loro scienzato Armin Schneider Schneider Confabulating Mind How the Brain Creates Reality è questo esaminerò poi questo è l'outline esaminerò poi gli argomenti a favore di una somiglianza tra la narratività e le teorie del complotto dopo questo analizzerò tre finzioni cinematografiche che articolano in modi molto diversi la narrazione la confabulazione e la cosperazione infine discuterò alcune narrazioni di disastri che mi permetteranno di evidenziare le somiglianze e differenze tra i tre regimi discorsivi della cosperazione delle cosperazioni fictizie e di quelle reali dunque prima parte omoconfabulatore come ci ricorda Armin Schneider la parola confabulazione ne abbiamo già parlato è stata introdotta alla fine dell'ottocento nella psichiatria molto più vecchia l'abbiamo visto per designare le false reminiscenze associate all'alcol alla demenza senile e alla sifilide la comparsa e lo sviluppo della psicoanalisi diedero al fenomeno una nuova dimensione i falsi ricordi favole per proteggere l'io sarebbero un meccanismo di difesa avendo una funzione compensatoria in una situazione di troma come vedremo le finzioni che hanno che fanno della confabulazione un elemento della loro trama sfruttano sistematicamente questa ipotesi però sempre secondo Schneider nulla sperimentalmente la conferma i falsi ricordi non sono neanche fabbricati per riempire i vuoti di memoria non hanno vedere niente con il trauma per essere chiari Schneider fa l'esempio di una paziente che in seguito a una lesione cerebrale si preoccupa ogni giorno della cena sociale che deve preparare e il fatto che non lo faccia non cambia la sua convinzione quotidiana di dover realizzare questo compito questa paziente ha un deficit nella sua capacità di estinzione che è il fatto di imparare dal non verificarsi di eventi previsti questa è una differenza decisiva tra soggetti sani e malati la confabulazione patologica interrompe così la catena di causa ed effetto il soggetto non trae alcuna conseguenza del fatto che un evento non si è verificato passiamo alla ben diversa confabulazione che è caratteristica dei soggetti la cattiva notizia che inspira il sottotitolo di Schneider come il nostro cervello costruisce la realtà è che tutti hanno la capacità di produrre o essere indotti a produrre falsi ricordi mentre nel caso dei soggetti patologici le confabulazioni provengono da ricordi passati è abbastanza facile far credere a soggetti sani 25% in un esperimento che eventi che non hanno mai vissuto sono accaduti nella loro infanzia la memoria che può essere alterata in molti modi è sicuramente il punto debole del nostro cervello un altro neuroscienzato John McCrone afferma che la memoria a lungo termine è un mito le recenti ricerche nelle neuroscienze ci portano quindi a sospettare che siamo tutti potenzialmente homines confabulatori soprattutto in situazioni di manipolazione questa fragilità costitutiva costitutiva della nostra specie è accentuata dalla nostra predilezione per le narrazioni che tendiamo a pensare soprattutto a partire della svolta narrativa degli anni 60 come il mezzo privilegiato per apprendere il mondo e noi stessi Galen Strasson ne abbiamo già parlato chiama narratività psicologica il fatto di pensare alla propria vita come una narrazione che secondo lui oggi è una narratività secondo una residenza un mezzo di falsificazione e manipolazione nella sezione seguente lasciando temporaneamente da parte la questione della confabulazione mi concentrerò su alcuni aspetti tra rapporto del rapporto tra narrazione e manipolazione narratività e cosperazione dunque seconda parte Homo fabulator nella trappola delle narrazioni da molto tempo correnti antagoniste attraversano il pensiero della narratività ognuno dei quali ha due aspetti distinti uno sottolinea la sua ogni presenza e positività l'altro al contrario sminuisce la sua importanza e sottolinea la sua perniciosità e si combina diversamente straussan collega l'argomento del falimento della memoria e la critica della narratività coloro che considerano le loro vite come narrazioni non sfuggono a ciò che chiama la revisione ho tradotto io il fatto che qualsiasi racconto cosciente ed elaborato di eventi passati comporti alterazioni risulta essere una conseguenza inevitabile del funzionamento del processo neuropsicologico della produzione della memoria non solo le narrazioni non riescono a rendere conto dei fatti ma il modellamento dell'esperienza che operano non porta alcun guadagno cognitivo morale nonostante Paul Ricoeur e gli inemerevoli difensori della narrazione come portatrice di significato identità e persino cura cito il discorso il ricorso alla narrazione la ricerca di una coerenza narrativa nella vita mi appare come un ostacolo lampante alla autocomprensione a una percezione giusta completa pratica implicita o implicita della propria natura per Jerome Brunner l'uso della narratività è accompagnato della volontà di nocere la capacità innata di creare narrazione e il gusto per le storie sembrano nascere nel bambino da una propensione alla menzogna e all'ingiustizia non abbiamo problemi a inventare le storie di cui abbiamo bisogno per raggiungere i nostri obiettivi e sappiamo fin da piccoli come far subire alla verità con le piccole subdole distorsioni che danno la colpa di un bicchiere di latte rovesciato alla sorrellina o al fratellino l'uso della narrazione è costantemente legato all'intenzione di ingannare e manipolare siamo molto abili a inventare storie per raggiungere raggiungere i nostri scopi è quindi legittimo essere sospettosi delle narrazioni che non solo falsificano e plasmano la realtà ma ci intrappolano nelle loro delizie e alla fine ci addomesticano è quello che dice Brunner Christian Salmon incarna certamente la versione più nota e influente di una concezione della narrazione che sotto il termine ormai ogni presente di storytelling Raffaele Baroni ha ragione di associare alle teorie del complotto secondo Salmon lo sviluppo a livello globale di una pratica della narrazione come strumento di controllo al servizio del capitalismo sfrutta il nostro gusto infantile per le storie evoca una stanza piena di dirigenti ostili a quali viene letta una storia per bambini si rilassano si aprono ringiovaniscono le storie armi di distrazione di massa scrive lui anestetizzano le mente e le rendono riscettivi agli obiettivi della società e del potere le temi molto influenti di Salmon hanno dato origine a una serie di commenti e programmi di ricerca che lo convalidano e lo contestano in Francia Corpé Jean-Pierre ad esempio sono d'accordo nel contrapporre la sofisticazione delle narrazioni letterarie alla narrazione usata per scopi pubblicitari e propagandistici considerata a priori semplicistica come nota Baroni questa parata è tanto consensuale quanto facile è confortante associare la letteratura all'apertura mentale e persino alla democrazia e attribuire tutta la colpa a pratiche discorsive meno nobili e quindi interessante citare una tesi che articola esplicitamente la narrazione letteraria e la cospirazione da un punto di vista strutturale e genealogico storico Jean-Villeneuve considera che la narrativa occidentale il romanzo e la letteratura sono nati alla fine del Medioevo insanguinato allo stesso tempo della persecuzione degli eretici delle streghe degli ebrei e che ha portato alla nascita di grandi teorie del complotto post hoc ergo propter hoc la nascita concomitante secondo lei della demonologia e del romanzo rivela una profonda affinità tra la letteratura e l'immaginazione diabolica paradossi destabilizzazioni equivoci disturbi conflitti sono condivisi dal diavolo e della letteratura il che prova secondo lei un'origine comune nonostante l'imprecisione storica dell'argomento l'ipotesi di una somiglianza tra racconto e cospirazione non è del tutto impertinente se non l'altro per la loro comune tendenza a manipolare l'attribuzione causale non parlerò un po' di questo la questione è complessa la legge della narrazione secondo Gérard Genet è quella della causalità regressiva che contà cito Marx la confusione di causalità e conseguenza Marx ha mostrato la genealogia fin da Aristotele di questa idea che un romanso si organizza a partire della sua fine mentre nel corso della lettura il lettore segue la successione degli eventi organizzati da una causalità efficiente capisce identifica gradualmente la causalità finale che dà loro un senso in relazione alla composizione globale la causalità regressiva è stata impiegata nelle teorie della cospirazione anche non è che la guerra in Iraq abbia portato all'intervento in Iraq ma che l'11 settembre abbia portato all'intervento in Iraq scusate ma è perché George Bush voleva andare in guerra in Iraq che è successo l'11 settembre Marx che analizza la causalità nelle teorie della cospirazione mostra che oltre la causalità regressiva sistematica essi scivolano da un appello al relativismo epistemologico secondo il quale tutto è una questione di punto di vista al relativismo ontologico i fatti e gli eventi sono relativi le teorie del complotto fanno anche ampio uso della tesi dell'imperscrutabilità del referente non possiamo sapere cosa sia successo però una spiegazione unica e globale viene infine imposta in nome del rigore esplicativo combinano dunque lo scetticismo e l'assolutilismo approcci cognitivi che si rafforzano reciprocamente scrive Dominici Dominici paragona la tendenza al complottismo al fascino delle narrazioni finzionali perché queste cito collegano tutta una serie di eventi disparati alla volontà di un singolo individuo o gruppo però si possano veramente paragonare le relazioni causali e gli atteggiamenti cognitivi richiesti da un contesto cospiratorio e la lettura di racconti di finzione generalmente l'insieme degli eventi in una ficzione convergono lo detto verso una fine che li illumina a posteriori la redenzione ulteriore di Jean Valjean rinchiede il furto dei candelabri del vescovo Miriel all'inizio dei miserati la causa recressiva è soprattutto un effetto della lettura retrospettiva le finzioni narrative sollecitano allo stesso tempo una spiegazione globale portata da una causalità finalista e un principio di economia prospettiva cito qui Eskola che preside la lettura privilegiando una causalità efficiente le finzioni forniscono anche spazi di indeterminazione che portano alla pluralità e a volte alla sospensione delle interpretazioni provvisoriamente o definitivamente d'altronde molte finzioni narrative non sono costruite in relazione alla loro fine non sono disegnate sul modello della configurazione logico-cronologica derivata da Aristotele dai romanzi barocchi alle serie televisive di oggi quindi anche se l'attenzione verso un significato globale è un punto comune tra le narrazioni letterarie e le teorie del complotto queste ultime non permettono la pluralità o la sospensione delle interpretazioni vediamo se possiamo confrontare l'impascruttabilità nelle teorie della cosperazione e nella letteratura nelle teorie della cosperazione come abbiamo visto l'impascruttabilità è un argomento l'affermazione secondo la quale non possiamo sapere significa sempre come minimo che uno si oppone alle spiegazioni della maggioranza e più delle volte che a favore di spiegazioni alternative l'incompletezza della finzione rende l'impascruttabilità del referente fictizio definitiva non possiamo davvero sapere il numero dei fili di Lady Macbeth l'impascruttabilità narrativa può anche essere un gioco per rilanciare le interpretazioni all'infinito e il caso della trottola che gli spettatori non smettono di fissare alla fine di Inception di Christopher Nolan si sa che lo statuto ontologico della scena conclusiva sogno in realtà dipende dal fatto che si ralenti uno più pertanto le somiglianze tra finzione narrativa e discorsi cosperatori sono al mio parere superficiali come pensare ora l'articolazione del racconto cosperatorio o no con la confabulazione riguardo alla causalità nel caso della confabulazione patologica la conseguenza e la causa non sono invertite la conseguenza è abolita atteggiamenti simili si possono trovare in contesti cospirativi ogni volta che un'apocalisse annunciata non ha luogo la convinzione di coloro che si sono preparati per essa non è scossa da non verificarsi dell'evento semplicemente rimendano l'evento a una data successiva non parliamo nemmeno dell'indifferenza dei sostenitori di Donald Trump riguardo alla non incidenza nella realtà delle affermazioni del loro leader nelle finzioni narrativa l'assenza di conseguenze è del tutto contraria alle leggi della narrazione e alla produzione dell'interesse per il romanzo le relazioni tra narrazione confabulazione e cosperazione possono tuttavia essere studiate a un altro livello quello delle finzioni dove le omologie saranno forse più eloquenti e più significative ho selezionato tre finzioni cinematografiche che rappresentano tre tipi di relazioni possibili tra questi termini facendo l'ipotesi della presenza in questi artefatti di una dimensione metateorica sono consapevole che queste finzioni sono già state ampiamente commentate sono banali ma credo utile il loro confronto che mi permetterà di identificare tre modelli di mondo razionale e irrazionale sia razionale che irrazionale e tre tipi di relazioni conflittuali complice negoziata terza parte finzione di confabulazione e cospirazione Valtz al-Khambashir 2008 di Harry Folman è spesso citato quando si parla di confabulazione mette in scena l'emergere della realtà oscurata dei falsi ricordi dei soldati traumatizzati e in particolare del protagonista che è anche il regista del film che ha quindi una portata autobiografica il processo di recupero della memoria è il riflesso commentato nel film stesso dove vengono intervistati specialisti in disturbo da stress post-traumatico si sottolinea anche la funzione dell'immagine cinematografica come terapia le piccole finzioni oniriche e inganevoli sotto forma di film d'animazione che preservano il soldato e tutta la società della memoria traumatica dei fatti sono invalidate dall'investigazione dalla investigazione raccontata dal personaggio anche se il film gioca sottilmente come si vede attraverso le variazioni di colore del disegno sulla sovrapposizione dei livelli ontologici e il passaggio dall'uno all'altro la differenza tra il mondo illusorio generato dalla confabulazione e il mondo reale è drammatizzata dall'irruzione finale ed esplosiva di immagini d'archivi televisivi da un reportage gerato il giorno dopo il massacro di Sabra e Chattila la narrazione sovrastata da una voce fuoricampo si fa carico di questi passaggi spostamenti e rotture denunciando con chiarezza il complotto che sta nel consenso politico e sociale che favorisce l'occultamento delle responsabilità anche Shutter Island di Martin Scorsese tratta dei falsi ricordi generati da uno stato di disturbo da stress pastromatico la colpa di un crimine l'omicidio della moglie e sullo sfondo il ricordo di Auschwitz lo spettatore segue l'arrivo sull'isola e le indagini di un poliziotto prima di apprendere che esso è malato di mente la cui allucinazione servono a reprimere il ricordo dell'omicidio della moglie che a sua volta aveva ucciso i loro tre figli questa sintesi è di per sé un'interpretazione in effetti a differenza del film precedente lo spettatore ha difficoltà a identificare ciò che costituisce la realtà nella finzione come attesta l'abbondanza di interpretazioni divergenti di questo film è impossibile sapere con certezza se i ricordi dell'eroe corrispondono a ciò che ha realmente vissuto quale sia la sua vera identità e persino il suo nome quanto i falsi ricordi sono impiantati in lui se soggetto di un esperimento medico la confabulazione patologica del personaggio infatti integrata in una messa in scena su larga scala presentata come una cura e orchestrata da un'equipe medica più che sospetta non si sa se questa simulazione è davvero terapeutica osserva progetti più oscuri l'ipotesi di una cospirazione che quella del paziente sembra credibile questa terapia fallita forse persecutora porta in ogni caso all'annientamento tramite l'obotomizzazione dell'eroe che sembra consentire a spegnere sia i suoi veri che i falsi ricordi ma anche su questa fine i dibattiti sono infiniti scusate la banalità la terza terzo esempio è la trilogia di Matrix e per certi versi Matrix per certi versi una combinazione di queste due versioni razionale e irrazionale nel primo film lo spettatore scopre insieme al personaggio che è la versione del mondo in cui vive un artefatto creato da macchine che hanno schiavizzato quasi tutta la razza umana la dicotomia tra il mondo reale e il mondo dell'illusione è chiara e il primo film finisce con l'immagine dell'eroe che si prepara a salvare l'umanità ma le cose si complicano nei due film usciti cinque anni dopo dove questo progetto di liberazione si rivela essere integrato nel programma delle macchine stesse l'eroe arriva a collaborare con le macchine il che porta alla creazione di una nuova versione del mondo più soddisfacente per l'umanità ma ancora alimentata dalla schiavitù di una parte del genere umano in Walzer Ton Bashir la rivelazione della verità difficile ma del tutto possibile è devastante per l'eroe e per la società ma è presentata come salvifica e politicamente auspicabile in Shutter Island la rivelazione della verità sembra impossibile si potrebbe parlare di imperscruttabilità narrativa e non è salvifica il personaggio sembra non trovarlo desiderabile per se stesso se fosse possibile sarebbe forse vantaggioso per la società che si liberebbe di pratiche abusive e antidemocratiche in Matrix il compromesso finale riserva la realtà a una parte della razza umana e si basa sul presupposto che l'altra parte acconsenta la schiavitù che fornisce l'illusione la rivelazione della verità è desirabile per alcuni e non per altri la rivelazione per tutti sarebbe danosa per l'equilibrio stabilito tra uomini e macchine e quindi in definitiva per tutti il primo film si basa su un ottimismo epistemico e politico nella zona in cui la rivelazione della verità attraverso il film mira una presa di coscienza collettiva che si riesca o meno un'altra questione la confabulazione dissipata la cospirazione del silenzio sconfitta la narrazione non è cospiratoria per questo un rapporto conflittuale tra narrazione confabulazione e cospirazione al servizio di uno scopo razionale il secondo si basa sul pessimismo epistemico radicale lo spettatore non ha accesso la verità né il personaggio che forse la rifiuta la confabulazione è forse dissipata la cospirazione se esiste trionfa la narrazione è cospiratoria il che va di pari passo con ciò che ho chiamato l'iperscrutabilità narrativa la narrazione è parte integrante della confabulazione e della cospirazione sono dunque complici e proietta un mondo che è irrazionale il terzo film si basa su una neutralità epistemica una forma di cinismo politico poiché la conoscenza della verità non è possibile per tutti la cospirazione è svelata e sconfitta per lo spettatore ma solo per alcuni dei personaggi la narrazione è e non è cospiratoria la relazione è quindi in evoluzione basata sulla negoziazione e questo disegna un mondo che sia razionale che irrazionale la scelta tra queste tre versioni dell'articolazione tra confabulazione e narrazione e cospirazione mette in gioco questioni teoriche filosofiche e politiche torniamo ora alla realtà e alle narrazioni di catastrofi per valutare se le finzioni hanno qualcosa da dirci o bene no ultima parte le narrazioni dei disastri attraverso la lente della configurazione della consperazione le narrazioni di disastri hanno affinità di lunga data e apparentemente strutturali con il conspirazionismo se una narrazione come l'ho detto all'inizio una rappresentazione di un'azione logica cronologica ha una dimensione intenzionale la rappresentazione narrativa di una catastrofe naturale procede inevitabilmente a un'attribuzione problematica di causalità e intenzionalità equivale alla designazione di colpevoli dall'epopea di Gilgamesh a Hold Up di Pier Benerias un controverso film documentario sull'epidemia di Covid tracciare l'epidemia significa identificare un'origine e delle responsabilità elaborare spiegazioni globali della vendetta degli dèi alle strategie di manipolazione controllo e persino eliminazione di una parte della popolazione orchestrate dalle potenze mondiali il filo narrativo implicito di Hold Up che ho guardato è quello della lotta di Davide contro Golia ma è uno schema generale che sussume una miriade di piccole storie e quasi quattro ore dichiarazioni testimonianze reazioni molto emotive confubulazioni di persone varie autorità mediche scientifiche o presentate come tale uomini e donne comuni questi interventi sono raggruppati tematicamente e la loro successione prescinde dalla coerenza non c'è nessun ordine logico cronologico nessun discorso tenta di ridurre le contraddizioni massicce la malattia immaginaria globalmente innocua però anche deliberatamente prodotta e diffusa per eliminare una parte dell'umanità il regista Pia Benerias afferma che non sappiamo nulla e che non possiamo sapere nulla però l'imperstruttabilità è più che mai un argomento il regista presume un pessimismo epistemico ma non siamo obbligati di crederli in questo contesto il scetticismo va di pari passo con il dogmatismo come abbiamo detto lo conferma l'atteggiamento dei sostenitori del film intervistati da Matteo De Lan è molto interessante che mostrano un forte ottimismo epistemologico non ho tempo ma forse potrò spiegare in che cosa consiste l'esperimento sottolineano la loro assidua ricerca di informazioni su internet sono convinti di essere attenti svegliati come l'eroe di Matrix rispetto a coloro che criticano il film e che considerano ingenui o complici della manipolazione svegliatevi è uno dei slogan più usati in questa crisi come in Shutter Island l'identificazione degli agenti della cosperazione è la questione principale i sostentori di Hold Up accusano gli accusatori dei film di cosperazione che a loro volta accusano gli autori autori sostenitori del film come cosperatori questa circolarità già notata ieri da Ugo Volli rende implausibile qualsiasi ottimismo epistemologico inoltre la partizione binaria dell'umanità in poliantagonisti gli svegli e gli addormentati manipolatori e manipolati ricchi e poveri ricorda l'universo stratificato di Matrix e può avere varie traduzioni politiche rivolta desinteresse per gli affari pubblici e forse conseguenze dannose per la democrazia Hold Up manca di una struttura di una struttura logica e causale coerente si potrebbe paragonare con un'opera molto più antica la demonomania di Sorcier di Jean Baudin che ha avuto un ruolo importantissimo nello sviluppo delle persecuzioni delle streghe e un'altra opera cospirativa che denuncia una cospirazione questa ricorsività essendo apparentemente una legge del genere i dispositivi retorici della demonomiania dei Sorcier sono molto simili a quelli di Hold Up accumulo di fonti eterogenee uso di citazioni tronche contraddizioni lasciate irrisolte combinazione di scetticismo e dogmatismo collegamenti causali troncati questo non significa che la versione cospirativa sia l'unico modo di raccontare la catastrofe la narratività può essere messa al servizio di un altro schema attenziale che è quello dell'indagine sull'origine materiale dell'epidemia della lotta con le misure prese dalle vicissitudini incontrate in fine della vittoria del superamento della crisi dalla fine del Cinquecento in più medici sacerdoti e storici hanno spesso reso conto dei terremoti e delle pestilenze le loro narrazioni generalmente scritte su richiesta o sotto la protezione dell'autorità sanitaria e politica dovevano rendere omaggio all'azione memorabile di queste ultime e sono quindi soggette a cautela però questi autori forse perché erano protetti dal potere hanno molto spesso espresso posizioni razionalistiche mostrando anche l'inannità e l'ingiustizia delle persecuzioni per fare un solo esempio Giuseppe Ripamonti il mio eroe con il suo De Peste del 1640 a cui Manzoni attinse in seguito una perfetta illustrazione di questo approccio Ripamonti riferisce delle confabulazioni illusioni dalle false percezioni quasi l'iniziaggio del vecchio che l'ha sollevata mentre era seduto si alternano aneddoti comici e tragici questa storia pubblicata dieci anni dopo l'epidemia di Milano non ha impedito l'esecuzione del barbiere Mora e della sua famiglia ma ha avuto importanti conseguenze politiche contribuendo all'abolizione dell'abolizione della tortura altre altre narrazioni sono quindi possibili questa è anche la conclusione raggiunta da ricercatori canadesi Melissa Genereux e i suoi collaboratori che raccomandano strategie di comunicazione pertinenti che porteranno a una migliore comprensione dei concetti scientifici e che credono possa frenare la discriminazione vissuta dalle popolazioni asiatiche durante la crisi di Covid questo splendente ottimismo epistemico che vede solo la disinformazione come fonte di cosperazione può non essere condiviso ma indica la necessità di altre narrazioni dell'epidemia che siamo ancora vivendo e che sono forse ancora da scrivere conclusione possiamo vedere che da un lato i modelli discorsivi hanno una grande longevità e che gli elementi che possono trovare e i loro elementi si possono trovare a distanza di secoli d'altra parte vediamo che le classificazioni che abbiamo potuto fare tra le finzioni sono più o meno trasponibili agli scritti fattuali particolari che sono i scritti o i film su le catastrofi però gli scritti operativi fattuali fanno anche i loro hanno anche i loro propri dispositivi stilistici e retorici questa è la mia ipotesi maggiore hanno un rapporto distante con la narratività James Phelan nella sua analisi della comunicazione di Donald Trump scrive giustamente che gli interventi di Trump non sono di per sé narrazioni ma piuttosto una valanga di commenti e insulti che cito contribuiscono a narrazioni più ampie che il suo pubblico è disposto a accettare non prendono la forma di una narrazione continua anche se il caos argomentativo che li caratterizza mira alla creazione di storie mi pare dunque giustificato concludere che il ramo della narratologia che identifica la narratività con la scospirazione è sbagliato e che il partito maggioritario seguendo Aristotele Paul Ricoeur Jean-Marie Schaeffer ha una ragionevole possibilità di averne colto l'essenziale ordinare la percezione del mondo introdurre coerenza nell'esperienza resta il fatto che le articolazioni più affascinanti della narrazione della confubulazione e della cosperazione si trovano nelle finzioni esse ci aiutano a capire i rischi politici del pessimismo epistemico ci portano a riflettere sull'etica della narrazione ci fanno vedere le insidie delle recursioni gli effetti vari dell'imperscurtabilità il film di Harry Folman per la sua dimensione autobiografica il suo impegno nei fatti occupa un posto speciale tra fatto di finzione ma proviamo piacere anche nei film di Scorsese e delle Vashowski che fanno un patto con la cosperazione perché le grandi macchine responsabili di una causalità globale ci affascinano e perché la finzione ci permette di godere della loro eccessività e razionalità irrazionale senza rischi purché si mantenga la distanza necessaria ho finito grazie spero di non essere stata troppo lunga forse di sì grazie 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 françoise anche per il perfetto rispetto dei tempi e quindi adesso è il tempo per una serie di domande la prima domanda che vedo Daniele Molinari e poi Andrea Tortoreto in realtà era solo la manina per applaudire ah ok niente allora Andrea Tortoreto e poi Alfonso Di Prosper non si sente sta parlando scusate ho l'audio ancora mutato dicevo grazie grazie Alberto grazie ai relatori interessantissimi spunti che ci hanno dato volevo fare una domanda da profano due considerazioni a françoise la prima concerne la parte iniziale della della sua relazione quando si parlava del modello che vede la memoria come strutturalmente narrativa ecco se se è vero quel modello emerge che credo che poi insomma lei critica però emerge una questione piuttosto inquietante perché si diceva la memoria è strutturalmente narrativa e però si costruisce anche a livello neuropsicologico come autoinganno fondamentalmente cioè noi appunto confabuliamo cioè inventiamo dei ricordi che non abbiamo a questo punto ne viene fuori un modello di sé per cui saremmo noi delle cospirazioni a noi stessi questo veramente evoca i più inquietanti film di fantascienza come Total Recall quindi ecco volevo sentire cosa ne pensava di questo aspetto qui la seconda cosa invece riguarda la conclusione che mi ha molto invece consolato è stata molto consolatoria perché mi pare di capire che quindi è una domanda di chiarimento la differenza tra narrazione e cospirazione concerna proprio il punto di partenza cioè il fatto che la narrazione intesa come finzione come fare finta ha una dimensione ludica se vogliamo la base appunto del fare finta per cui mi permette di approcciare con determinata consapevolezza il mondo narrativo mentre nelle cospirazioni le connessioni logiche di base sono mancanti sono le contraddizioni sono lasciate risolte diceva lei proprio nella misura in cui manca l'elemento finzionale di base cioè sono spacciate per vere grazie ancora questo soltanto grazie per queste domande molto interessante la prima sono assolutamente d'accordo con lei è inquietante però quello che scrive e lo conosco ho parlato molto con lui e dunque è esagerato capire questo uno che vorrebbe capire questo perché c'è molta gente a che piace pensare che siamo folli che facciamo la distinzione tra fatto funzione viviamo in uno sogno eccetera Shnida non dice assolutamente questo anzi dice che c'è un'enorme differenza tra la confagulazione vera la confagulazione dei soggetti sani il problema è che infatti registriamo gli eventi lui mi ha detto è come se li registriamo in dischi versi e la differenza con il tempo si eroda si e dunque infatti sappiamo tutti che la memoria la nostra memoria è debole che possiamo inventare eccetera però non dobbiamo esagerare non ho niente da dire dalla sua seconda domanda perché non è una domanda e sono assolutamente d'accordo l'ha detto molto bene dovrei usare la sua formulazione infatti la finzione non volevo tutto non volevo fare un discorso sulla finzione ho voluto veramente prendere seriamente la questione della narrazione però secondo me il fatto che sia finzione o no cambia tutto secondo me alla fine assolutamente grazie grazie a lei grazie prossima domanda Alfonso di Prospero grazie grazie per l'intervento molto interessante mi inserisco nella stessa questione posta la prima delle domande poste da Andrea Tortoreto e riguarda un aspetto di filosofia della mente se noi per riferirci alle confabulazioni al rapporto con gli errori della memoria usiamo il concetto di inferenza inconscia di inconscio cognitivo quindi si parte da dati che sono molto più semplici e destrutturati di quello che appare alla mente cosciente si parte da dati bruti che sono molto più semplici non c'entrano quasi nulla con il mondo che organizziamo come persone consapevoli e razionali e questi dati iniziali attraverso una montagna di inferenze che sono inconsce che sono quelle che costituiscono all'inizio fanno parte dell'inconscio cognitivo e poi diventano le inferenze che facciamo anche in forma cosciente è naturale pensare che in questo processo ci possono essere degli errori quindi si inseriscono di volta in volta dei meccanismi dei condizionamenti dall'esterno per esempio che portano a fare rinferenze in maniera sbagliata l'aspetto interessante di questa cosa è che chi si inserisce in questo meccanismo non è che si inserisce su una mente patologica ma si inserisce sul funzionamento fisiologico della mente per portarlo dalla sua parte attraverso meccanismi che proceduralmente sono corretti sono legittimi e sono quelli fisiologici quindi lo stacco diciamo tra razionalità in quanto tale e irrazionalità o patologia in quanto tale semplicemente viene molto attenuato e sono due cose che sono la manifestazione di meccanismi che sono gli stessi io ho in mente Barck attuenza puta e Von Helmots insomma più indietro e la domanda è questa grazie dal punto di vista delle teorie cospirative penso che vada anche nella direzione che dice lei le narrazioni non sono intrinsecamente cospiratorie ma c'è qualcosa di molto comune nei meccanismi che muovono l'una e l'altra cosa si esatto è un po' la stessa domanda che prima comunque sì ci sono meccanismi simili però la confabulazione patologica è molto diversa come lo detto e mi sembra interessante comunque di capire questo e che la confabulazione patologica ora non so i conspiratori dove sono sono stata molto interessata dalla non mi ricordo più come si chiamava la ragazza che parlava inglese sul paragone tra delirio e consperazione questo era molto interessante e eravamo sulla stessa sulla stessa tesi ci sono rapporti però nella fine c'è una grossa differenza un confabulatore patologico veramente ripeta non è nemmeno non è nemmeno una questione di memoria debole ecco la memoria debole è la nostra condizione generale come persone sane questo è il nostro problema però la confabulazione patologica è tutt'altro non è una questione di memoria debole è veramente una lesione che fa che non abbiamo le conseguenze eccetera non so se ho risposto alla sua domanda sì grazie grazie molte non mi sembra di vedere altre manine quindi ne approfitterei per fare io una domanda a Françoise riprendendo cose che ha detto anche Andrea Tortello ha detto io sono molto d'accordo con te nella distinzione tra narrazione finzionale e cospirazione probabilmente questo perché io ho una concezione metacognitiva della finzione e quindi questo mi porta a pensare alla finzione come un atto in cui il soggetto che fa finta è consapevole del fatto di fare finta però è anche vero che la cospirazione viene spesso descritta come se fosse una teoria o un'ipotesi ma il comportamento di chi difende quella pretesa teoria non è poi il comportamento di un teorico perché il rapporto del cospiratore nei confronti della pretesa evidenza non è quello di chi difende una teoria e da questo punto di vista sembra molto più vicina diciamo alla finzione un po' come in certi sensi è la mitologia se noi andiamo a guardare la mitologia classica si è molto ovviamente dibattuto se i greci credessero o meno ai loro miti però quello che è importante è vedere che rapporto i greci avrebbero ai greci antichi avrebbero avuto se qualcuno avesse cercato di confutare le loro credenze per esempio qualcuno avesse detto guarda io sono salito sul monte Olimpo e non ho incontrato nessun Zeus e nessuna Atena o nessuna era non c'era nessuno di tutti quelli di cui tu mi hai parlato e ovviamente il sostenitore di una narratologia mitologica non avrebbe preso sul serio queste come critiche ma avrebbe cercato in qualche modo di accomodarle dentro la sua narrazione generale ecco volevo sapere un po' che cosa ne pensavi di questo che punto forse sbagliamo a considerare la cospirazione come una forma di teoria e la dovremmo considerare in un altro modo sono d'accordo e non d'accordo sono assolutamente d'accordo sul fatto che non è una teoria sono d'accordo non sono d'accordo con il paragone con la mitologia e ti dirò perché perché non è una teoria però è una strategia veramente che non c'entra nulla con il far finta della finzione e con il rapporto con la mitologia io credo è veramente strategico quando ho sentito questo orribile tizio del quale ho mostrato la sua la sua immagine è menzogna e fare finta di non di essere farple di 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 non sapere per imporre una no è veramente una strategia discorsiva a parte che il regista c'è anche tanta gente che testimonia in questo film e che non hanno strategie che dicono semplicemente cose folle per questa gente forse hai ragione per la bisognerebbe forse distinguere tra la gente che produce queste teorie strategicamente e la gente che viene intrappola in queste strategie che infatti ci credono la mitologia io penso a questo sai Paul Venn che dimostra che per molto tempo i greci non si facevano la domanda le cose erano più o meno vere erano leggendarie erano vecchie però la questione della distinzione tra fatto e finzione è venuta più tardi e dunque io credo che sia ben diverso perché non siamo più ingenui non possiamo pensare che non ci sia differenza tra fatto e finzione e non si tratta di leggende vecchie secondo me grazie grazie molto dunque non vedo altre domande forse questo è il momento buono per chiedere diciamo se ci sono nell'audience domande da rivolgere sia a Dario sia a Francoise io ne avevo intanto che non vedo manine alzate ne avevo una per Dario che era questa quello che però una manina di Alfonso o forse una manina vecchia no adesso ok perfetto allora lascio la parola a te prego prego è rapida ed è diversa dal professor Mangan perché praticamente l'idea è se quello che ho detto riguardo alle conflubazioni non può riferirsi anche alla pubblicità perché la pubblicità si inserisce su meccanismi la cosa che ha colpito durante il covid e durante l'intervento del professore precedente è che sarebbe stato spontaneo pensare che durante il covid per l'estremo stress di quella situazione la pubblicità tendesse a far evadere dalla situazione con la fantasia illustrando scenari che magari appagassero senza fartici pensare al covid invece la relazione ha mostrato il contrario e l'idea è che la pubblicità per acquistare credibilità di fronte allo spettatore deve innestarsi sui meccanismi spontanei dell'attenzione dello spettatore che va verso quello che gli succede intorno e poi una volta che ha fatto questo deraglia e va verso dove vuole il pubblicitario quindi in qualche modo sarebbero anche in questo caso gli stessi meccanismi grazie forse prima allora di far rispondere Dario aggiungo la mia domanda in maniera tale poi di avere diciamo una risposta collettiva quello che mi ha compito diciamo delle pubblicità che hai mostrato e che tutte cercavano in qualche modo se non ho capito male di creare una sorta di identità valoriale in qualche modo tra il soggetto che riceve la pubblicità e diciamo la marca che produce in qualche modo come se appunto la pandemia dovesse in qualche modo fornire una sorta di cooperazione tra diciamo gli utenti nella loro differente relazione delle pubblicità e mi sono chiesto che cosa sarebbe potuto succedere se come dire come un problema più generale che ha a che fare con quello che noi chiamiamo la resistenza all'immaginazione diciamo se fossero venuti fuori dei la pubblicità ci avesse proposto dei valori assolutamente non condivisi o addirittura respinti immagina per esempio che ci fosse stata una ditta di sex toys che avesse deciso di fare una pubblicità di questo genere visto che dobbiamo stare a casa se volete violentare le vostre compagne anche quando queste non hanno voglia e non danno il loro consenso abbiamo qua un fantastico divaricatore per voi che potete utilizzare in questo tempo che avete da trascorrere a casa ora ovviamente questo che sto delineando è ovviamente uno sketch obrobioso ma mi domando quale avrebbe potuto essere la reazione se appunto come dire ci fosse stato proposto qualche cosa che in realtà diciamo è un valore non condiviso che addirittura è un valore opposto alle nostre credenze diciamo morali e sociali complessive eccomi si ci sono allora grazie a entrambi ovviamente che credo in qualche modo forse di poter mettere insieme allora ovviamente non ho idea di che cosa sarebbe potuto succedere immagino che tu abbia ragione che sarebbe potuto andare anche così come giustamente diceva Alfonso Di Prospero prima uno si sarebbe aspettato l'evasione e invece non ce l'ha trovata al contrario ci ha trovato una realtà realissima nella pubblicità cosa che di solito la pubblicità appunto non fa detto questo però se ci pensi in realtà c'erano dei valori non condivisi nel senso che questa dimensione patriottica eccetera eccetera in fondo in fondo in Italia non è che proprio sia un valore estremamente condiviso se non da un certo sappiamo siamo quasi tutti italiani o grandi conoscitori dell'Italia io ringrazio Françoise per avere parlato in italiano lo volevo dire pensavo di averne occasione ma insomma la ringrazio molto e quindi dicevo appunto la patria è un valore complesso a me quello che mi colpiva al di là appunto dei valori condivisi non condivisi delle sorprese è proprio il fatto che in qualche modo tu marchi completamente diversi aziende completamente diverse e per ragioni vi assicuro completamente diverse io vi ho fatto vedere solo FCA perché mi sembrava emblematico ma colgono perfettamente l'unicità del momento e la colgono proprio per non rispetto un'unicità diciamo di tipo storico ah guarda che momento particolare la colgono rispetto ai loro interessi cioè questi all'indomani della pandemia cominciano a prendere i loro creativi e a frustarli per fare per tirare fuori un'idea perché hanno capito che questa cosa che stava succedendo era una miniera d'oro e quindi io temo che il problema non fosse appunto l'attenzione per ritornare a quello che diceva di Prospero cioè adesso come catturiamo l'attenzione gli diamo una realtà più reale del reale secondo me il problema non era tanto catturare l'attenzione che figurarsi so bene essere il problema della pubblicità ma qui secondo me per quel breve spazio si è come dire spazio temporale intendo si è intuito che si poteva mettere le mani si poteva tentare di mettere le zampe appunto nel come dire nel suo strato più profondo dei valori verrebbe da dire universali ma non esagererei insomma comunque un sistema di valori di quello fondante ecco dopodiché dopo tre mesi non era più così cioè dopo tre mesi è sparito è sparito tutto e ripeto il problema non credo fosse l'attenzione ma proprio la possibilità di cioè il giocattolo che avevano che c'era in ballo era un giocattolo che non si era mai visto o almeno non si era visto in epoca recente quindi era come dire l'occasione per fare pubblicità per portare la pubblicità su altri territori un livello di credibilità maggiore a livello profondo della personalità diciamo secondo me non necessariamente un problema di credibilità anche forze come effetto ma sicuramente un problema di articolazioni cioè di articolare un sistema di valori in un modo che fino a quel momento non era stato possibile negli ultimi dagli anni 60-70 in poi non era più stato possibile perché appunto non c'erano grandi narrazioni non c'erano delle ideologie vere compresa quella nazionale ovviamente su cui lavorare quindi appena tu le vedi queste cose tu azienda vai in brodo di giugiole e dici aspetta adesso io che ci faccio con questa cosa per questo vi ho fatto vedere la pubblicità del formaggino cioè voi ve lo immaginate oggi un formaggino pubblicizzato cioè vi immaginate Papa Francesco con tutto insomma un uomo piuttosto di larghe vedute se gli fanno il formaggino con la preghiera ve lo immaginate cosa succede l'inferno voglio dire la cosa interessante è che appunto poi vengono fuori strategie strane per esempio una è quella di FCA l'altra è quella per esempio Pupa vi immaginate uno un produttore di cosmetici che ha il problema della mascherina cioè questo come fa a fare pubblicità cioè come li vende i prodotti che ci abbiamo tutti A non possiamo uscire di casa B abbiamo la mascherina vi immaginate questo questo povero signor Pupa che deve vendere le sue cose in un'epoca come questa ovviamente cosa fanno cominciano a fare pubblicità sociale tirano dentro emergency tirano dentro un sacco di altre cose mescolando sistemi di valori completamente eterogenei aggrappandosi a valori appunto che hanno a che fare con la vita umana eccetera eccetera e innestandoli era quello che dicevo a Claudio Pocanzi innestandosi non solo potando quindi ma anche innestandosi su sistemi valoriali molto importanti profondi e condivisi la vita umana la sicurezza eccetera eccetera innestandosi su quello appunto adesso non mi ricordo se è emergency o l'unicef no sì è emergency emergency e Pupa che fra l'altro sono entrambi rossi questa cosa piacerà moltissimo a Tiziana quindi scelgono come dire l'ente no profit a cui affiliarsi per ragioni puramente plastiche cioè Foxy che vende carta igienica sceglie l'unicef che è azzurro e ovviamente c'ha l'azzurro nei suoi colori e invece Pupa che c'ha il rosso nei suoi colori sceglie emergency fantastico spero di avere risposto e anche forse di avere chiarito questa storia dell'innesto che forse non era troppo chiara grazie Dario vedo ancora una manina questa volta penso che sia una manina di domanda e non di ecco di Daniele Molinari e poi chiudiamo perché è un po' tardi grazie molto veloce ed è più una curiosità nel mondo della pubblicità è una aveva dei precedenti questa attenzione per esempio immagino ad altri eventi storici rilevanti come la caduta del muro di Berlino oppure l'11 settembre c'erano stati casi analoghi dove la pubblicità puntava su questi sì sì ma non sistematici e non trasversali cioè non sistematici di un periodo in cui tutti facevano tutti o quasi attenzione quando si dice tutti non si intende copertura totale ci mancherebbe però davvero tanti e non così trasversale a me la cosa che colpisce è che come dire mi ha stimolato a fare quest'analisi è che appunto parlava allo stesso modo la carta igienica e le automobili quando la carta igienica e le automobili usano lo stesso tipo di figure di temi di cose eccetera eccetera lì forse una domandina bisogna farsela quindi nelle altre crisi di questa cosa non era successa però attenzione non erano pandemie questa era una pandemia cioè quindi la condivisione a un certo momento come sappiamo ai noi molto bene è stata totale cioè noi vivevamo tutti le stesse cose per questa ragione Françoise che sarebbe molto giusto e molto importante lavorare su altre corpus di altri paesi è verissimo è giustissimo benissimo allora mi permetto di ringraziare ancora entrambi i relatori in particolare Françoise per aver parlato uno splendido italiano molto lo invidio questa sua competenza se avessi dovuto fare una cosa analoga in francese avrei fatto ridere come si suol dire in italiano i polli ci rivediamo tutti sempre su questo link alle tre per la sessione pomeridiana grazie ancora a tutti e buon pranzo arrivederci arrivederci a dopo arrivederci ciao a dopo arrivederci